e voglio capire che cazzo siete come coda più o meno sembra però va bene no sono prima del ponte ok una fortezza innevata ok la valle boreale ok capisco il nome si va sul ponte si è ma che bella luna che c'è porto una bambola e potrei passare ma che cazzo sei un coccodrillo enorme ma ma è un coccodrillo ma porco giuda ma che schifo e vabbè però non è che non il pinocolo non il pinocolo sto cazzo il pinocolo di merda non l'avevo sostituito alle essers mi ricorda il cattivo finale di uscio e tora che sua volta mi ricorda sempre il topicadaci però andiamoci troppo fastidio per uno solo io me ne vado e se mi lasci stare non sembra volermi lasciare stare ok oh no non ti puoi palesare qua davanti stronzo ah capisco ma ancora lì sul ponte sei? si molto male ora voglio capire se rimani con quella vita o no se ne è andato? sembra essersene andato dopo che ho oltrepassato la barriera vediamo se riappare si riappare con la vita vascia però sembra molto arrabbiato e infatti corri 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 maledizione corri ok è morto occhio destro del sacerdote ok si prosegue allora è il momento dell'evocazione quindi ancora si può continuare insieme va bene mi fa molto piacere così bisogna proseguire e il pipo non può stare da solo per troppo tempo è giusto avete ragione bisogna guardarsi attorno con molta attenzione e col binocolo bisogna camminare col binocolo col binocolo eh si ma si spunto una totale che ragazzi cose che prima sono morto perché avevo il binocolo è stato ancora meno alto arrivo risolto ok vediamo sta scala prova schiena NANI voglio vedere la tua faccia nobile cavaliere spirito oscuro gunty ma questa è stata un'invasione non è un NPC è un giocatore è un giocatore è un giocatore mi ha perso di te ti metterò un po' sfortunato no ma più che altro ma siete delle merde però tutte e due perchè? eh gli ha fatto il ditino Silvestro no? nooo ha fatto l'inchino poi c'è una processione come c'è una processione? ma porco e io non voglio fare il sacrilego però no cosa vuoi fare tu? voglio farli passare in pace ma che bastardo no 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 manderà tu fuoco ma che cazzo è stato? mi ha lanciato ma che cazzo ha fatto il lancio del peso con me ma stiamo scherzando eh no ho sentito il suono magico sono stato in vaso è arrivato a punti ma era quello di prima si quello che ha subito la cattività eccolo arriva il macellaio arriva il macellaio sta cercando i mob ah no gli avevo fatto il parry arriva il macellaio arriva il macellaio arriva il macellaio nooo sta correndo troppo allora andiamo a piano no va bene sei venduto albero di gigante mi sto spogliare non ce l'ho dovremmo andare a vedere bastardo che ha fatto che ha fatto che ha fatto che ha rientrato il mio schifo va da me qua va va bene e bevi no vabbè vabbè non lo posso fare più eh sta arrivando a processione eh ma sto cazzo di fuoco di merda vabbè venuti danzare più cazzo corona il cavaliere del grande sacerdote vabbè non è il momento però va bene va bene ma che bordello ma che bordello ti ho provato di cazzo di acqua eh niente ah che coglione solo con i mob va bene noi eravamo in tre però ecco cazzo cazzo si ho esplorato ci sono due zone che però non posso visitare se ci siete voi e qui dove ci si prima e ora stavo girando di qua però un crammento grande di titanite ok e qua sopra invece c'è proprio un'altra via qua sopra io vorrei fare un bong un bong? vieni hanno citifonato arrivo su chi è il corriere? corriere? capiamo 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 che c'è di qua? anelli di corriere sonito ah ok per andargli dietro mentre di qua dove sta andando il mio amico sinistro c'è un bel falò c'è un bel falò ok allora tu qua vuoi fare di testa tua o vuoi essere avvisato? no testa mia ovviamente parlo con NPC dovrebbe essere Henry sì non è riuscita a ritrovare Horace anche da solo da cercare signori per i bambini che un tempo conoscevo siano benedetti loro anime per il suo simbolo di protezione e per il suo simbolo di protezione allora di là si scende sotto quindi ma se ti dicessi che qualcuno qui? qualcosa ti sta osservando eeeh qui c'è un cazzo di altare allora a parte quelli che c'è quello lì che proprio con cui ho parlato se noi ti dicessimo che c'è qualcuno qui che in questo momento ci sta osservando si gira verso di me? no? io intanto mi starò qui qualcuno ci sta osservando? e non è una telecamera va bene a me è sembrato sentire dei respiri prima capiamolo c'è una c'è una strada sopra qui c'è un altare non saprei apprendere il drop vediamo prova di un successo che caspita è prova di un successo è un orecchio è un orecchio? è un oggetto quindi perchè non lo vedo ah devo andare dall'inventario di uno spirito oscuro da parte di una sentinella blu le sentinelle blu quelle di Anor Londo i cavalieri della lama oscura infatti quelle di Anor Londo di... Gwyndolin eh sì eh? come lame della luna oscura puniscono i colpevoli prendendo un orecchio come ricordo il cadavere senza orecchie e quindi se c'è sto coso ci potrebbe essere Gwyndolin come la volta scorsa dovrei equipaggiare il suo orecchino per poter sbloccare il suo percorso quindi sono osservato effettivamente da Gwyndolin potrei essere assoluto oh la puttana eh 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 pellegrino è andato dritto all'angoli ma l'ho attaccato io si ok una piccola goccia oscura ah o ma sembra proprio che ci serva più tempo io forse vi dico che perderete un coglione per un po' perchè è arrivata Maria quindi credo che ceniamo presto che poi gli altri penso scendono quindi va bene e allora io scendo di qua che Maria scende e si prosegue si scende nella melma again ti parli quando andrete ha chiesto di Eren ti ha chiesto? di Eren ah ok e bravo vediamo che c'è di qua anello del oh oh che schifo che schifo è quella cosa come per via c'è un droppino di là si va invasione? dita di rosaria dark beer ma è un'invasione è spawnato non deve farci ok è un'invasione normale pensavo no dark beer non penso che sia non penso che sia il ntc e che ne sai? dark beer perchè no? capisco gioco in italiano via d'oscuro in inglese beh si può sempre sperare e che ne sai stia cazzo di cosi no ma ma porca miseria oh nooo ma che spattuna catena mi colpiva anche se ero dietro di lui via una a sinistra vediamo che c'è di qua ma oh schifo schifo mamma mia gli insetti così mi fanno veramente schifo e nemico standard più avanti ma ma è un cavaliere nero quello? di